Sono le decorazioni in oro e in argento su elmi, scudi e spade a rendere la collezione delle armature islamiche del Museo Stibbert di Firenze una delle più rare esistenti in Europa per completezza e preziosità delle opere conservate. Una collezione che ora viene valorizzata e disposta all'interno della mostra Islam, armi e collezione di Friedrich Stibbert che rimarrà aperta fino al 9 novembre 2014. Quello di valorizzare il patrimonio islamico che abbiamo qui ed è, non lo dico solo io, ma lo dicono anche altri esperti una delle collezioni più importanti esistenti al mondo. Divisa in aree geografiche, dalla Mamelucca alla Turcomanna alla Persiana all'Indiana fino a quella caucasica l'esposizione ripercorre le diverse strategie di difesa e di attacco attraverso le armature realizzate tra la fine del 1400 e gli inizi dell'Ottocento Con maglie leggere e flessibili, le armature raccontano di popolazioni nomadi, attente ai dettagli e alle decorazioni raffinate così come la mostra racconta di una Firenze dell'Ottocento di grande apertura. Una Firenze popolata di grandi collezionisti che non si fermavano di fronte a una sola tipologia di oggetti, dipinti o sculture ma andavano a fondo anche sulle arti decorative e Stibbert è stato uno di questi. Il Museo Stibbert arricchisce la sua offerta mantenendo il proprio stile, valorizzare i particolari per raccontare un'epoca.